Amici. L'ex allievo approda uomini e donne. Nessuno lo avrebbe mai sospettato. Lo scoop è incredibile. Colpo grande per Maria. C'è grande fermento e curiosità per la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne. La passata edizione si è conclusa tra i plausi e il consenso generale. I protagonisti del Trono Over infatti hanno saputo intrattenere i telespettatori con vicende e narrazioni sentimentali avvincenti. La grande squadra che lavora al fianco di Maria De Filippi è già all'opera per il reclutamento dei nuovi volti e, sono partite le congetture e le supposizioni. I fan infatti più affezionati al talk sui sentimenti stanno cercando spasmodicamente notizie in merito ai possibili nomi dei protagonisti che allieteranno i loro pomeriggi. Proprio in queste ore è circolata velocemente una news. Secondo la quale tra di essi ci sarebbero delle new entry. Due ex concorrenti del grande fratello e un ex allievo della scuola di amici. Tanto è bastato per fomentare la curiosità del pubblico del dating show. Di fatto sono programmi di punta del palinsesto Mediaset e, i fan non vedono l'ora dunque di sapere di chi si tratti. Per avere notizie attendibili occorre aspettare la seconda metà di agosto. Ma nel frattempo gli esperti di gossip hanno già lanciato qualche succulenta anticipazione. Secondo quanto trapelato saranno apportate delle importanti novità. Amici. Ex allievo a proda uomini e donne. In prima battuta potrebbe essere eliminata per sempre la suddivisione dei due parterre. Maria starebbe pensando infatti alla nascita di un solo trono nel quale ci saranno persone dai 18 fino a 70 anni. I protagonisti potranno scegliere di frequentare dunque chi più li aggrada, senza limitazioni anagrafiche. Si vocifera altresì che potrebbero approdare direttamente dal grande fratello, Massimiliano Varrese e Greta Rossetti. Il primo ha lanciato la sua autocandidatura di recente. Mentre la bella Greta, tornata single da qualche settimana, potrebbe decidere di cercare l'anima gemella a uomini e donne. Ma c'è di più. Si vocifera che da amici potrebbe arrivare anche, Nicolas Borgogni. Si suppone infatti che Maria De Filippi potrebbe dare una svolta a uomini e donne. Introducendo personaggi di spicco dello spettacolo nostrano. Per il momento si tratta di mere supposizioni. Dunque è necessario attendere la messa in onda della prossima stagione per capire se siano attendibili o meno. Si tratta di indiscrezioni. È necessario essere pazienti ancora un po'. La nuova stagione inizierà infatti a settembre.